Oltre 35 anni dopo l'avvio dei lavori, l'autostazione di Avellino potrebbe vedere la luce entro la fine del 2022. Il Tribunale di Napoli ha rimesso in corsa la cogepa, la ditta che era stata raggiunta da un'interdittiva antimafia per ben due volte. Adesso l'IRSPA, che aveva avviato le procedure per il recesso contrattuale, torna indietro e riaffida il cantiere con l'impegno però a finire tutto entro 72 giorni. Come si ricorderà si tratta di lavori finanziati dalla regione Campania per un totale di quasi 4 milioni di euro. L'obiettivo adesso è mettere la parola fine a questa odissea. Queste via vai di carte, di burocrazia, stanno danneggiando un'intera comunità di Avellino perché l'autostazione va completata, come sempre abbiamo sostenuto come organizzazione sindacale. Quindi noi ci auguriamo che una volta del tutto finisca questa odissea perché davvero un'odissea si sta creando un vero caso perché l'autostazione soprattutto in questo momento è fondamentale per la mobilità per l'intera città di Avellino e non solo. Novità anche per l'altra grande opera ferma al palo, la riqualificazione di Piazza Castello. L'assessore genovese assicura siamo allo sprint finale. Piazza Castello è uno degli obiettivi principali dell'amministrazione. Abbiamo già la progettazione, è stata già redatta, quindi si tratta solo di dare l'inizio effettivo ai lavori di ultimazione della piazza. Con la fine del 2022 vorremmo mettere la parola fine a tutti questi eterni cantieri che ci sono in città.